Il monastero di Santa Caterina da Siena di Ripatranzone ha origini antichissime. Si ritiene infatti che esistesse addirittura nel 578 d.C. come romitaggio. I documenti esistenti lo fanno risalire invece al 1628 quando Papa Urbano VIII diede l'assenso alla sua costruzione con un breve. Gran parte del suo archivio andò distrutto da un grave incendio verso la fine del 1700. Nel 1937 furono aperti un convitto per le studentesse dell'educandato, il laboratorio di Cusito, il ricamo per giovinette, l'asilo e il doposcuola. Le monache attualmente sono in attesa della clausura costituzionale richiesta alla Sacra Congregazione e si occupano dell'assistenza di alcune signore anziane. Nelle quattro camere a disposizione sono ospitati religiosi, parenti delle suore, scout e gruppi di incontri religiosi. Inoltre un tempo le suore avevano una piccola filanda ed erano famose per la lavorazione della seta, dei tessuti, dei ricami e dei fiori, sempre in seta, ma anche per la farmacia e le pitture. Oggi fanno ancora ricami su commissione e continuano a essere delle ottime cuoche. Questi i piatti tradizionali del monastero. Tagliolini della Madonna della Pace, polenta con le cotiche, frustingo di Natale e frittelle di San Giuseppe.